bella amici e amiche torniamo su construction simulator e andiamo a vedere che cosa ci tocca costruire oggi allora allora turismo lungomare ponte a risviluppo complesso del preghiero panoramica l'abbiamo fatto piazza principale ok vai piazza principale Chinatown mappa viaggio rapido vediamo cosa dobbiamo fare come la vuole questa piazza il nostro amico del comune the Chinatown district is a tourist highlight and the place of residence for many people of Chinese origin it upsets me to see that the vibrant hustle in the narrow alleyways has almost completely disappeared dilapidation and signs of neglect are everywhere in recent times unfortunately there was never enough money to carry out important restoration work on the streetcars in main square so many shop owners had to close for safety reasons but now I finally got the approval for the means to bring the old glamour back to this district so let's get started ok qui cosa dobbiamo fare allora parte bisogna andare a prendere i pezzi ah no sono questi tubi sono due tubi rotti allora impresa io verrei col col camion col muletto no con l'escavatore per due tubi andiamo con questo va prendi ok visto che non c'è voglia di andarci percorrendo strada ok tocca 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 troppo tocca allora devo ricordarmi i comandi devo ricordarmi i comandi tocca e andiamo così forza senti ma è stato visuale così, ma devi lasciare uscire perfetto e alza un po' ok, adesso vediamo se probabilmente dovrà spostarmi perché non è abbastanza lunga però 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 grande camion guarda qui c'è roba ok allora e si pescina chiudi e tra l'altro perché devo metterli lì e sarebbe stato meglio portarli in discarica se sono tubi rotti ok fermo questa visuale quando quando il gioco decide che vuole metterlo lì è il primo che trova non è 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 ma è ma è bello Allora, facciamo una bella cosa, visto che siamo qui, tre, uno e uno. Ok, almeno, aspetta, portiamo tutto la, dai, facciamo una volta sola, sennò bisogna farci guarda la volta, visto che, eh, Gennaro, visto che non ce la faccio, me lo consigli tu, appena puoi, eh, non star lì a portarmelo subito, grazie, grazie. E' un po' lino verde che abbiamo trovato. Rosso. Bello, schermittina. Vai. Oh, c'è la ripresa come una macchina, di più anche. verde. Eh sì, una bella murtozza. Era appena scattato, però, eh. Oh, scusate che ho preso il cartello. Sto lavorando per il sindaco. Intanto poi dobbiamo mettere i cartelli anche nella piazza e facciamo quel cartello che ho tirato giù. No problema. Eh, lo so. Adesso dobbiamo vedere su, sulla piazza. se c'è, la possibilità di mettere una gru. quindi, anche l'anno scattato. Questo danno tutto. Questo, il fatto un'altra, 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 un'altra. E' un'altra tamta, un'altra. E' un'altra. E' un'altra. E' un'altra. Li'altro. Sa seis, anche. E' un'altra. un altro rosso vedete perché faccio il viaggio rapido eccolo qui il mio cantiere però non credo c'è il posto della gru sai cosa faccio io però io la gru ce l'ho dalla sani e la portiamo qui era parcheggiato al porto carino è questo back ma c'è il posto della gru dai non l'avevo visto inutile che portano questa gru qui facciamola qua qui non ci dice niente a nessuno per accedere le luci così la ritroviamo sicuramente se con la batteria ecco bella lì questo volevo io questo qua ok componenti impianto fognario credo che sono qui occhio che c'è un'altra casa qua un'altra casa o a fortuna che ero alto ok no me la metti qui così vabbè c'è la gru tu vi impievi i cibi non li avrebbero portati a mano o a fortuna Ok, do it. 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 Ok. Ok, do it. 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 Alla prossima Alla prossima Alla prossima Allora Alla prossima 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 Perfetto Alla prossima Perfetto Alla prossima 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 Perfetto Alla prossima 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 Alla prossima